Il Museo Comunale Energia e Vita riapre e rientra nella piena disponibilità della comunità di Costacciaro. Il museo è tornato di fatto alla fruizione del pubblico sabato mattina, con una visita aperta a tutta la popolazione e ai curiosi, che qui possono trovare riproduzioni di manufatti preistorici e brevetti o soluzioni tecnologiche legate all'energia e alla vita quotidiana. Il museo, chiuse per cause di forza maggiore in occasione del furto di gran parte della sua dotazione, avvenuto circa due anni fa, precisamente aprile 2015. Da allora l'energia e vita è rimasto pressoché inutilizzato, pur essendo il museo più nuovo e recente del completo percorso museale di Costacciaro. Sono serviti due anni di indagini, condotte dal Comando Carabinieri di Sigillo, per arrivare al ritrovamento degli oggetti, con la conseguente riconsegna all'ente comunale che nel giorno di mercoledì 1 marzo, nel corso di una conferenza stampa, ha esposto tutta la dotazione rientrata in pieno possesso del museo. Come promesso dal sindaco Andrea Capponi, dopo dieci giorni necessari per le pulizie e riallestimento, si è proceduto ad una riapertura sperata ed auspicata da tutti i cittadini, che in questi due anni si sono sentiti espropriati di un bene di loro appartenenza, sul quale sono stati investiti circa 440.000 euro di finanziamenti pubblici.